Allora, quindi oggi comincia sbaginata al time di ramen in Giappone. Da qui si ordina e si paga. Vabbè, io prendo uno semplice, tipo questo qua. Intanto ci siamo seduti, qui nell'angolo, dove possiamo mirare il pepe. Vabbè, 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 vabbè. Ahia! Sete, due, uno, si! Sì! Grazie! Qui ti pareva un canale? Non è così? Non è così? Non è così? Non è così? Eccoci, eccoci! Eccoci, eccoci! 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 Eccoci, eccoci! Eccoci, eccoci! 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 Eccoci e vai! E finalmente è arrivata! Tadà! E come dice il sommo poeta, è magna, magna! se fosse stato romagnolo avrebbe detto e mangia romagna con la carne il giappone non è paese per i vegani buono c'è un buon di soia, c'è un sempre in asia masé un buon di soia, c'è un buon di soia la sua in testa è già pagata ok questo è il posto quando quando venite qua in giappone ecco il posto è questo come punto di riferimento cercate quello lì questo centro e via e via il suo nuovo avventure andiamo let's go alla prossima